Musica Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti alla rassegna stampa del sabato Occhio ai giornali come sempre qui dagli studi di Fano TV tutte le mattine puntualmente in diretta alle 7.30 vi proponiamo quello che nei giornali poi troverete nella cronaca locale naturalmente in edicola tutto questo ringraziando anche tutti gli amici così numerosi sempre di più che ci seguono anche sul web nella pagina Facebook con la nostra diretta ci sono tanti affezionados che sempre tutte le mattine sono lì con il loro smartphone il loro tablet per seguirci in diretta questa è una possibilità che avete anche se dovete recarvi all'estero o fuori dalla nostra zona noi siamo visibili in tutte le marche ma se siete fuori dalle marche potete seguire naturalmente tutti gli aggiornamenti online e anche le nostre edizioni di rassegna stampa e telegiornale la sera bene i giornali sono pronti sono lì sul touch screen ma prima guardiamo naturalmente con ordine il santo del giorno e le previsioni del tempo sabato 17 marzo è San Patrizio di Armang il sole è sorto alle 6.16 e tramonterà alle 18.17 vedete come le giornate si allungano sempre di più man mano che andiamo avanti nel calendario le previsioni per oggi guardiamo sabato appunto il cielo sarà nuvoloso parziali schiarite nel corso del pomeriggio sulla fascia collinare e costiera però vedete compare la simbologia della pioggia e quindi le precipitazioni nella prima parte della giornata diffuse anche a carattere di rovescio e i fenomeni in attenuazione però nel corso del pomeriggio le temperature minime stazionarie e in lieve diminuzione e massime in diminuzione i venti sono moderati sud occidentali nelle zone interne nessun fenomeno particolare anche per domenica vedete la simbologia è molto eloquente non compare neanche uno straccio di sole il cielo è la didascalia salomonica nuvoloso punto non c'è altra speranza nella tarda mattinata sparse localmente anche a carattere di rovescio le precipitazioni in estensione nelle zone interne al resto della regione nella serata fenomeni in intensificazione sulla fascia costiera settentrionale quindi insomma da noi pioverà e pioverà parecchio anche come come leggete temperature minime in diminuzione e massime invece stazionari anche il mare sarà mosso il mare sarà particolarmente tenuto d'occhio dalla marina militare per l'operazione appunto che riguarderà la brillatura dell'ordigno che tutti sappiamo che cosa ha combinato la settimana scorsa e il mare sarà le condizioni meteomarine saranno determinanti lunedì mattina e appunto questa è la previsione per lunedì mattina cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso per l'arrivo di strutture comuniformi proprio dal mare precipitazioni rovesci temporali sparsi più probabili nel settore centro-settentrionale ricompare vedete la simbologia della neve che arriva a quota 400 metri sul settore centro-settentrionale temperature in precipitazione precipitano in diminuzione sensibile anche venti moderati lungo la costa però con raffiche fino a vento fresco il mare sarà appunto ahimè molto mosso e questo non semplificherà le operazioni degli incursori della marina tendenze per i giorni successivi i flussi nord orientali favoriranno ancora residui condizioni nella prima parte della mattinata di instabilità appunto questo è naturalmente quello che ci riserva il meteo o come dire mi sono soffermato un po' di più sull'aspetto del mare perché permettendo seguiremo l'evoluzione per insomma della vicenda legata alla bomba proprio lunedì mattina dal porto di Fano per assistere proprio alle operazioni di brillatura di questo ordigno però tutto questo è condizionato appunto dalla visibilità in acqua perché insomma è un'operazione particolare i sub dovranno scendere a 14, 13, 14 metri ma se la visibilità sarà scarsissima non riusciranno ad operare in sicurezza e quindi insomma è un punto interrogativo teoricamente alle 9 di lunedì mattina scadono le 144 ore quindi l'ordigno sarà in sicurezza dopodiché dal di lì in poi ogni momento è buono per farlo esplodere e chiudere questa pagina così particolare di Fano andiamo nelle pagine dei giornali apriamo la pagina del Corriere Adriatico appunto nella pagina che riguarda l'inserto della provincia di Pesaro controlli nella piazza che era stata definita di nessuno terra di nessuno, la fotonotizia è questa controlli serrati a piazzale Matteotti è tempo che l'amministrazione passi dalle promesse ai fatti Baiocchi di Fratelli d'Italia e vedete una pattuglia richiesta a gran voce dagli esercenti contro ubriachi e molesti gli esercenti però chiedono un presidio fisso e poi in alto una notizia anche questa sul fronte della sicurezza che rassicurerà non poco tutti gli utenti dei mezzi pubblici contro bulli e scrocconi autobus video sorvegliati direttore dell'AMI dice vogliamo garantire la sicurezza di conducenti e passeggeri e poi in fondo alla pagina si uccide 24 anni sparandosi al poligono di tiro di Apecchio il giovane si era presentato all'impianto per la prima volta la tragedia è accaduta in mattinata e vediamo però l'aspetto che ha riguardato anche ha riempito le pagine della cronaca fanese questa nei mesi scorsi perché tutti si ricorderanno appunto il caso di quell'extracomunitario salito appunto sul mezzo bus dell'AMI sulla linea 25 fanno calcinelli rompendo una bottiglia di vetro e minacciando i passeggeri vi faccio vedere il colore del tuo sangue all'indirizzo dell'autista poi qui l'articolo cita un altro episodio a Pesaro un italiano che ha minacciato appunto i presenti nell'autobus e anche l'autista vi ammazzo tutti scendendo poi alla stazione di Pesaro e vi trovo vi taglio la gora insomma tutto questo e anche quelli che sono definiti portoghesi nel senso che non pagano il biglietto avranno vita più difficile e naturalmente per la sicurezza di tutti i passeggeri e autisti telecamere sugli autobus questa è la contromisura dell'AMI che è stata presentata di recente dal direttore dell'AMI Benedetti diciamo appunto vogliamo garantire con questo la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri perché in due anni l'AMI sostituirà 30 bus ieri sono stati presentati due mezzi nuovissimi anche con un servizio dedicato ai disabili e un investimento di 8,5 milioni e quindi insomma ci saranno le telecamere e un sistema interno incrementerà così la sicurezza quindi buone notizie per gli utilizzatori dei mezzi pubblici a Palazzo Ducale il sindaco Ricci partirà insomma un museo e nella parte dei sotterranei il sindaco Ricci ne parlerà con il prefetto Cincarilli ma la prefettura però deve restare dove è ora invece la continua l'operazione e il progetto per spostare la questura di Pesaro all'ex intendenza di finanza avanti tutta quindi con questo progetto il progetto va avanti con le verifiche naturalmente della sovrintendenza ma faranno poca strada perché attraversano soltanto la strada la questura attraversano soltanto la piazza e va nell'ex intendenza di finanza poi andiamo nella pagina che riguarda la Valle Foglia in derapata e a tutto gas si parla di sport sport automobilistici è la patria del rally e del drifting oggi la presentazione del grande evento che sta diventando uno dei primi in Italia e quindi insomma un momento abbastanza sportivamente intenso per questa zona perché arriveranno piloti da tutta Europa e per chi non sa cos'è il drifting il rally lo sappiamo tutti il drifting è quando le auto compiono un circuito completamente derrapando con l'auto e l'abilità dei piloti è proprio è proprio quella nella pagina di Fano si parla ancora della bomba e dei danni ambientali che eventualmente la sua deflagrazione potrebbe portare ma Piccinetti ha una valutazione ottimistica su questa esplosione perché dici i danni ambientali in mare saranno inevitabili moria di pesci e danni anche alla fondale ma in un mese tutto sarà superato tutto tornerà alla norma l'ARPAM dice però non ci hanno coinvolti in tutto questo lunedì come dicevo prima scadono le 144 ore dall'arrivamento ritardato per rinesco chimico forse attivato inavvertitamente qui vedete nella foto un'immagine della motore della guardia costiera e il professor Piccinetti che a riguardo ha espresso il suo parere poi in basso ancora pareri positivi e ringraziamenti per l'evacuazione l'operazione è stata una grande esercitazione lo dice il deputato Cinque Stelle Maurizio Cattoi che dice applauso all'organizzazione e anche al sindaco Massimo Seri che sicuramente ha svolto un compito delicato ma tutto è andato per il verso per il verso giusto la pagina di Fano riporta anche il bel evento che c'è stato ieri all'aeroporto con 250 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al Media Day per i corsi rivolti ai giovani organizzati dall'aeronautica militare l'aeronautica militare è qui da una settimana ce ne starà anche un'altra per questi corsi mirati appunto al mondo dell'aviazione hai visto mai scopriamo qualche top gun qualche pilota magari non solo per l'aviazione militare ma anche per l'aviazione civile sono questi focus queste giornate soltanto in 5-6 città d'Italia e Fano è stata scelta appunto nel 2018 per uno di questi appuntamenti così importanti non solo per gli studenti ma anche per far conoscere tutte le possibilità che ci sono nell'ambito dell'aviazione che sicuramente è uno dei comparti dal punto di vista anche occupazionali che presentano per il futuro maggiori garanzie per i giovani veramente c'è una grande fame di piloti ma non solo ma anche di tutti coloro che operano all'interno del comparto dell'aviazione e poi si parla di cyberbullismo si è parlato di cyberbullismo e il vice presidente del consiglio regionale Minardi parla della sua brutta esperienza personale gli hanno rubato identità numero e anche soldi dal conto corrente e quindi lui porta la sua esperienza personale tutto è bene ciò che finisce bene perché è riuscito a recuperare tutto quello che aveva però insomma si è parlato di questo fenomeno in grande espansione soprattutto sommerso il 5% dei ragazzini subisce adescamenti sulla rete presente al convegno anche appunto Carl Cristina Tedeschini il procuratore capo che ha parlato di questi risvolti della rete e dalle marche due fatti di cronaca nera molto cruenti uno recentissimo questa bambina gettata tra i rifiuti e la neonata ahimè è morta di fame e di freddo effettuata l'autopsia per il medico legale non ci sono dubbi ha vissuto solo in un giorno e ora i carabinieri analizzano il percorso dei mezzi entrati in discarica per cercare appunto di intercettare intercettare il punto dove la bambina e la neonata è stata gettata nel cassonetto siamo a Ostra nel centro di stoccaggio dei rifiuti ingombranti dove è stato rinvenuto il corpicino ahimè senza vita della bambina un altro episodio sempre cruento sempre violento strage e odio razziale traini in corte d'assisi ve lo ricorderete l'udienza è fissata per il 9 maggio a Macerata era uscito di casa armato di una Glock di una pistola e ha sparato all'impazzata ferendo ben 11 cittadini stranieri forse voleva così col sangue lavare l'onta della strage effettuata poco prima ai danni di Pamela Mastropietro adesso questo sarà da vedere per intanto insomma il raid dopo il cadavere di il ritrovamento del cadavere di Pamela ma insomma strage e odio razziale questi i suoi capi d'accusa per lui andiamo a Urbino Urbino si parla di appunto quello che è stato il lancio nella prima pagina shock al poligono chiede di sparare ma si uccide con un colpo di pistola è successo a un studente 24enne di Pergola che si è rappresentato per la prima volta all'impianto di Apecchio Valcesano colpite l'economia e la sicurezza si parla di dissesto idrogeologico guardate le foto foto che veramente io ieri ci sono stato sul posto vi devo dire che questa foto non rende assolutamente giustizia il vero di quella che è la situazione è veramente tutta una collina un versante che si sta muovendo a più punti sembra una zona terremotata sono la zona dei Barbanti quindi la zona di Monterolo insomma quelle di Serra Spinosa il Belzio il Solfare insomma zone interne del Pergolese ma che sono sicuramente abitate frequentate soprattutto ci sono strade di grande comunicazione e quindi colpite economia e sicurezza il sindaco Baldelli capeggia la protesta di Pergola per lo stato di degrado delle strade provinciali due sono chiuse e due a una corsia quindi quattro strade su cinque versano in pessime condizioni dieci anni di abbandono lui dice pronti a mobilitare anche la popolazione qui c'è un'altra foto cerco di allargarla il più il più possibile si riferisce proprio a ieri vedete qui c'è questo crinale qua la strada è arrivata qua ci saranno un metro e mezzo di dislivello qualcosa di veramente sembra sembra un terremoto quella zona nella Valcesano poi c'è anche Terre Roveresche Sebastianelli sopperisce con Facebook alle carenze informative il sindaco più social si scusa per i disguidi organizzativi e quindi utilizza come via di comunicazione prediletta Facebook per veicolare appunto i suoi messaggi ai cittadini cambiamo testata giornalistica andiamo al resto del Carlino lasciamo il corriere apriamo la pagina di apertura dell'inserto che riporta un episodio accaduto in tribunale a Pesaro un'asta con brivido perché padre e figlio e due figli bloccano per due ore il tribunale c'era in atto la procedura della vendita della sua casa e poi ennesimo raggiro ai danni di un aziano una badante gli spilla 100.000 euro in 4 anni spennato lui 94 anni che nel frattempo poi è morto diceva è l'unica che mi vuole bene e lei voglio stare solo con te e insomma ci credo a questo punto gli ha portato via 100.000 euro ci credo che ci voleva stare allora vediamo vediamo poi in basso che cosa c'è intervista sul fronte del lavoro a un'infermiera emigrata a Berlino qui la vita è dura quindi nessuno mi chiami bambocciona perché insomma tutto faccio tranne che la bambocciona me la me la me la me la me la la mia paga ecco qua la badante è costata più di un Cayenne Cayenne inteso come macchina assisteva uno 94enne siamo ancora a Pergola a cui sono spariti oltre 100.000 euro in 4 anni la denuncia è partita dai parenti dell'anziano che l'accusano di truffa e circonvenzione di incapace andiamo poi a vedere la pagina che riporta comunque anche qui nel Carlino la presentazione dei nuovi bus sui video sorvegliati da parte da parte dell'Ami appunto contro bulli e violenti l'Ami presenta in piazza due nuovi mezzi dotati anche di telecamere ma non solo ci sono anche le pedane per i disabili facilitate anche le mamme naturalmente con carrozzine oppure in stato di gravidanza l'autista parla della sua esperienza che dice è capitato che ci siamo trovati in difficoltà con furbetti che non pagavano il biglietto quindi dopo attimi sicuramente concitati tra loro e il controllore che lì per fare il suo lavoro è giustamente recrimina quello che è il dovuto ma questo innesca sempre ha innescato sempre purtroppo anche reazioni violente da parte di qualcuno duro lavorare all'estero altro che bamboccioni questa è l'esperienza di Carlotta con gli occhiari una sua amica infermiera pesarese a Berlino racconta la dura vita di quelli che stanno all'estero e di chi lascia la città e parenti per andare a trovare lavoro all'estero leggete l'intervista perché è molto bella e parla soprattutto degli italiani che hanno dovuto sempre combattere con l'immigrazione anche ad oggi mezza città in volo con l'aeronautica siamo a Fano tra le nuvole anche Seri tra Sarti e i politici iniziativa pensata con le scuole per coinvolgere naturalmente i ragazzi vedete questi sono i mezzi sui quali hanno volato ieri naturalmente giornalisti politici rappresentanti delle forze armate insomma di tutto e anche poi prenderanno il volo gli studenti stessi la prossima settimana vedete qui il sindaco Seri e il vicepresidente Renato Claudio Minardi proprio nella mattinata di ieri fiore all'occhiello il sindaco dice finalmente ora intorno al nostro aeroporto c'è il clima giusto e sereno che ci doveva sempre sempre essere bene andiamo a una pagina che riguarda il cordoglio per la scomparsa del notaio De Martino un grande professionista lunedì ci saranno i funerali il ricordo di amici e colleghi e poi chiudiamo con l'ultima pagina che riguarda appunto anche qui sul Carlino le strade ahimè veramente devastate di Pergola appello del sindaco Bardelli dice 600 persone isolate aspettiamo interventi urgenti e hanno anche chiesto lo stato di calamità naturale e poi a Mondavio il dolore del figlio di Bracci che dice ciao va ora dacci la forza di vivere commozione naturalmente nella chiesa alla folla che ha partecipato ai funerali di Angelo Bracci morto sul lavoro questa era l'ultima pagina che vi leggevo grazie per essere stati in nostra compagnia grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna naturalmente lunedì mattina puntualmente alle 7.30 qui c'è in sovrimpressione il nostro numero di telefono 338 4968 250 ormai dovreste averlo memorizzato anche sul telefonino oltre che mentalmente per poterci mandare le vostre segnalazioni sempre importantissime per noi grazie e buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti